Preghiera del mattino In questo nuovo giorno vogliamo alzare il nostro sguardo verso di Te, Signore nostro Dio, perché guardandoti la semina abbondante che ci hai affidato, cresce e fruttifica. Fa che in questo giorno, con l'aiuto insostituibile del Tuo Spirito Santo, cresciamo in santità e in obbedienza, e che piantiamo con Te il seme della buona novella presso tutti gli uomini, nostri fratelli. Amen.